Buongiorno a tutti, oggi ho intenzione di narrare e commentare il capitolo La morte del padre tratto dalla coscienza di Zeno di Italo Svevo. Il protagonista Zeno Cosini va a casa del padre per cenare. Qui la cameriera comunica al figlio che il padre non sta bene in quanto Balbetta respira con molta fatica. Tuttavia Zeno non si accorge della gravità della situazione. Il giorno dopo il figlio viene svegliato dalla cameriera che comunica che la situazione sta peggiorando. Infatti Zeno trova il padre molto sofferente e questo provoca il pianto di Zeno in quanto è sconvolto dalla vista. A questo punto arriva il medico che spiega che il padre è ormai morente. Tuttavia il medico osserva che il padre potrebbe riprendere conoscenza da un momento all'altro. E allora Zeno, temendo la violenta razione del padre che potrebbe accusarlo di voler la sua morte, chiede al medico se è possibile far morire il padre in assoluta pace. Ma il medico non ne vuole assolutamente sapere. In questo modo Zeno avverte dentro di sé un pesante senso di colpo. Ma c'è un colpo di scena costituito dall'estremo gesto del padre che ha assistito alla scena e che consiste nel trovare le forze per rialzarsi e schiaffeggiare il figlio, di cui non ha nessuna fiducia. E subito dopo il padre muore. Inizialmente Zeno dà la colpa del folle gesto del padre al medico che ha voluto a tutti i costi che il padre stesse sdraiato, ma poi giustifica l'azione del padre come un gesto incosciente. Solo alla fine Zeno si rappacifica col padre. Infatti durante il funerale, quando ormai Zeno è consapevole che il padre non c'è più e non può più fargli del male, emerge un ricordo di un padre debole e buono. Veniamo adesso al commento. Diciamo in primo luogo che i personaggi di svevo sono degli inetti, in quanto non possono più coincidere con l'immagine paterna che è virile, solida, sicura. In sostanza non riescono a trasformarla, questa immagine, in una componente fondamentale della propria personalità, in quanto vivono in un contesto storico, quello dell'inizio del Novecento, caratterizzato dalla crisi dell'individuo borghese che non ha certezze ma vive con un forte senso di precarietà e di angoscia. E la scelta di Zeno consiste proprio nel voler essere inconsciamente inetto per contrapporsi al padre borghese e alle sue incrollabili certezze. Infatti Zeno vuole crearsi un proprio stile di vita, un diverso modo di concepire la vita stessa. E così quando il padre si ammala, inconsciamente Zeno desidera che muoia al di là del dolore che sta provando. Ovviamente Zeno vive tutto questo con un grandissimo senso di colpa. E l'episodio dello schiaffo del padre testimonia il clima di odio e di difedenza che è sempre esistito tra il padre e il figlio.